Ladies and gentlemen, live to Merate, Italy Bentornati sul canale Preda Channel Oggi continuiamo con Life is Strange E visto che ho l'abilità di leggere di un bambino di due anni Io direi di continuare col discorso che ve lo mettete in pausa, ve lo leggete E poi andate avanti Io taglierò perché leggerò in maniera veloce nella mia testolina E poi andrò avanti A voi la visione Vada Gamers, iniziamo da dove c'eravamo lasciati Ovvero che lei rivolge il tempo con l'uso della sua manina Torniamo Siamo ovviamente Ti capite? Ti sento zitta un attimo Quando ho fatto un selfie, Jefferson mi ha chiesto una domanda Se lo faccio ancora, saprei se questo è vero Eh, devo farmi un selfie? Vabbè, facciamoci un selfie Vabbè, facciamoci un attimo Vabbè, facciamoci un attimo Contaglio che la portruttura ha sempre un aspetto vital di arte e fotografia Può andare in bagno e asciugherla Ora, Max Since you've captured our interest And clearly want to join the conversation Potevi, please Tell us the name of the process That gave birth to the first self-portraits Devo andare in bagno Grazie, ma devo usare il bambino Grazie a tutti, Max Ma non ci saranno così facilmente Possiamo parlare più dopo la classe Oh, c***o Jefferson vuole mantenermi dopo la classe E ho bisogno di salvare quella bambina Un processo che dà portretti Un stile riflettivo Adosso Ora sei totalmente stuck in la retrozone Sì, face Molto bene, Victoria Vabbè Riavvolgiamo velocemente il tempo Ah, sicuramente Devo dare un'altra risposta Sto morendo Ma sbaglio Ma sbaglio o mi faccio del male Mentre arrivo con il tempo Quello che ho detto lei Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, grazie dei complimenti No Basta che ti muove uscire Ed è anche di corsa Questo adesso appena puoi uscire Mi rompe le palline Ecco Che due palline Eh, mi dica Dottore Avvocato Ingegniere Non lo sto evitando Non lo sto evitando Non sono sicuro Di averne uno No Non lo sto evitando Esatto Sei un genio Max Non ci aspetti Non ci aspetti John Lennon Ha detto Che la vita È quello che succede A presto A presto Frase del cacchio E avvolgo Premi l'una Per annullare L'ultima azione Avvolgere Vabbè Che cacchio ne so Torniamo A ridirgli Qualcos'altro Quanto pare Non ho fatto La cosa giusta Gli diamo Quella lì Che cosa Inizia essere un po' Ripetitivo Provocato Mi scusi Ma Gentilmente Mi lascia andare Avrei una vita Da salvare Io Non sono sicuro Di averne una Grazie Grazie Su parole Comunque Grazie Io spero Che non mi rompa Più le scatole Ora noi corriamo A salvare la ragazzina Che è in pericolo Apri Grazie Gentilissimo Sì 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 Per muoverti Velocemente Si levi dalle palle Corra Corra lei Corra 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 Pappi 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 Bagno Baff Come on Entra Ok 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 Passo per passo Mi guardo lo specchio Mi lavo la faccia Ho trappato la foto La palla è volata dentro E Scritto una foto E Ecco 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 Intervenga Campanti Incendio No E martello Lo prendo Spossa Martello Presto Cristoforo Colombo Prendi Dai che questo muore Su Porca Vacca Torni indietro Il martello Ci abbiamo ancora in mano Spero però Adesso noi facciamo una cosa Più Rapida Martello Si ce l'ho ancora in mano Mancato un pelo Bene Missione compiuta Mi ha salvato una vita Questo non giro una pistola Tranquillamente Cioè Non si preoccupi Si però Io sto usci Uscirei da qua Mi sgamano Non do di matto Sto cercando di scappare Ecco No Stia calmo lei Se ne vada Gentilmente Grazie Se ne vada Ingegnere Se ne vada Non piscatole Vabbè Aggiungiamo Il tizio Che ci ha cordialmente Salvato Le chiappette Preside Beh Ho solo Imparato A usare Dessere i poteri Sono un po' palida Potrei essere malata O Ho fatto qualcosa Non c'è niente Da dirle No no Faccia Gli affaracci suoi In seconda La verità Denuncia Nathan Denuncia Nathan Prescott Si 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 Esatto. Non mi hai sgomato. Eh, non so. Troppo. Fermato. Eh, è così, però. Non ci sono prove, zia. Non c'è di che. Eh, sempre a chiacchiere. Chiacchiere, 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 chiacchiere. Eh, queste cose indicano che non avranno conseguenze. Prevo agire tempo per cambiare l'esito. Ma no, abbiamo denunciato, va bene così. Ma sarebbe, perfetto. Ma riaviamo il tempo, velocemente, fino a che. Uh, parla. Cambiamo idea. Così mi fa tutta la manfrina, vediamo cosa succede. Ripeto, sono bianca, pallida, sto per morire evidentemente. Sì, le dico che, le dico che, le nascondo la verità. Mestruzioni. Niente. Niente. Faccede? Certo. Ma cosa vuoi? Ma che cosa dici? Scusate, allora, io ho detto la verità, non facevo un cazzo. Io ho detto una palla, mi rompe i coglioni. Alla fine mi rompe comunque le... Il co... Ah! Stupito YouTube. Eh, modella restruzione, le parlacce. Che stavo dicendo? Io ho detto la verità, non va bene. Io ho detto una palla, non va bene. Mi fa sempre una testa lunga così. Basta, insomma. Allora, mi spinge a dire le bugie. No, no, allora, no, aspetta, 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 riavvolgi perché se mi butto... Sì, no, diciamogli la verità perché se mi butto via la borsa di studi già non sono stato un genio nella mia vita. Quindi... Saltiamo tutto... E... Ricorda tutto. Ok perfetto. Meno me ne importa che abbia conseguenze... Ah, va al campus ma... Ah, da qualche parte? Qui non c'è nada che posso toccare, spippolare, fare... Un salino qua ci sono delle cose. Tornare nel bagno non se ne parla Poi quello che è successo Figuratevi Questo è il bambino degli uomini Questo è il corridoio Va bene Cagascatolini che non sei altro Ok esco Come vuole lei vocato Io esco Bene al campus Bello Bello Mi piace Un'ottima scuola Con le betulle Faggi Belli 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 Castagni Ma che belli Pinetti belli Qua in Italia ce lo sogniamo Una roba del genere Ma che bella betulle fatta malissimo Ecco lo richiama Postra persona scomparsa Chi sarà mai Scomparsa Semplicemente scomparsa Va bene Va bene Quindi ci sono Professoressa Grant Ma ho già visto Il duce Il duce La gente che gioca Ma in teoria Dura Breda essere tutti fuori Non c'è nessuno Attorno Ma non fa niente Noi parleremo Con la professoressa Guarda Guarda Ma parliamoci No Certo Sera bene Eh Mettiamo Non posso soltare Ecco Sì Ottima idea Bello Mi piace Io voglio mettere Queste cose Assurdo Avrei potuto aiutare Rachel Di chi c'entra David Madsen Non è assurdo Eh Sto 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 Lo so Però Fa Molte cose Però Siete le carole Ce le avrebbero potute Aiutare Anche Nel caso Dell'uomo Con la pistola No Non Firmare No Non mi piace Sì Certo No Questo è un spazio pubblico Ed è pubblico Di conseguenza Le telecamere Sono sempre Ben Accette Ho Un messaggio Da Dal mio amico Gay Io non sto scrivendo Però ragazzi Dai calmo Torna su Allora Ehi là Scusa Sono un ritardo Giornata folle Ci vediamo al parcheggio Quello figo Vedrai Sì Sono pronta a fare foto Tra poco Ah Ci vediamo al parcheggio Ok Mi piacerebbe Andarmi a prendere la chiavetta SB Eh zia Cosa fai qua Per aprire il diario Come si chiama il diario Cosa c'è di nuovo Nel diario Beh c'è il preside E c'è Questa Cosa qua Che non Ragazzi Come di solito Come vedete all'inizio Del video Mettetevi in pausa E leggetevelo voi Che a me Queste cose Importano relativamente O me le vado a leggere Più in là Eeeh Victoria Kate E il preside Sono nuovi Però a me non mi interessa Sto leggerli L'episodio 1 Che è successo Di nuovo Abbastanza niente di niente Non ci importa Lei si Lei si riposi Le betulle Sono veramente Orribili O scene L'hanno fatto Dare dei premi A questo gioco Io proprio Non lo so Va bene Ci sono dei posti Io devo andare I dormitori Aspetta Oh c'è un drone C'è un drone C'è un drone Bruttissimo Ok Molto imponente Mettere la tua Ok Andiamo da loro Justin Ciao Justin Yo Justin Trash? 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 Sto dicendo Staggivare? O? Tu sei un pose Se non potessi tirare Un semplice O un tracolino Ti dovresti andare Che cazzo Abbiamo finito Che cazzo Che cagare Di una testata Ti arriva Se non potessi tirarle Però non posso Vabbè Niente Esploriamo Il corpo umano Dove è il dormitorio Da che parola Questa è la scuola Questa è la scuola Quindi in teoria Il dormitorio Ma cosa è sta trash? Fammi un attimo vedere Cos'è sta trash Qua ci sono ancora Sti cose qua Beh Mettete in pausa Ve lo leggete Mettete in pausa Ve lo leggete E mettete in pausa Ve lo leggete Ma Io voglio capire Cosa Tu Fai qui Posso parlarci Parliamoci Let me guess Brooke Vado l'indominario Ah se tu comandi il drone Mi piacerebbe molto È un drone questo Non è una vera mangolfiera Eh infatti Sì certo Io so Lei che non lo sa Che cavolo sta dicendo Guarda Guarda Purtroppo Ha risposto Stessa cosa Cioè Non c'è niente Uno scogliattolo Corri Scogliattolo 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 Prendi un scogliattolo 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 Poster 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 Entrate Non se ne parla Eh Vabbè Betulle Fatte veramente male Ok Niente Sono vecchio Una borsa Possiamo prendere qualcosa A circa Adesso spalle Eh È complicato Mi dice sì Bella Mi spiace Lei non si è accorto Di niente Ma per caso E cos'è sta cosa qua Aspetti Proviamo a cambiare La nostra risposta Della signorina Dove siamo finiti Ah Parliamoci di nuovo Fattiamo quello che Eh Quello è un drone HiFly Così facciamo a figura Di quelli intelligenti Le ho sbirgianto Nella borsa Grazie Certo Non lo fa usare adesso Quella 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 Comandiamo il drone Uh Peccato che Non lo posso Comandare io Il drone In questo modo Mamma Ma pensate Quanto sono Quanto sono Barboni Voglio comandarlo Io Che cosa stupida Vabbè Niente Non possiamo comandare il drone Quindi non mi interessa Grazie Avvocata Gentilissima Eh Ma quindi io volendo Posso riavvolgere Anche per farmi dare Della droga Immagino a questo punto Che si parli Di questo Justin Non ci parli Non Va bene Ok Proviamo Ad arretrare Ad arretrare Abbastanza Per riuscire a No Tu Ecco 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 Dovebbe essere Questo il pezzo Beh Già Si Saltiamo E diciamo Sono qui Per un Nose slide Ah Intanto si parla Di skate No Non posso Skate 3 flip Vai vai Trevor Facci vedere Lei come è bravo Infatti Nelle palle Gli è andato E lo skateboard Trevor Si è fatto La bua Foto È il momento Migliore Per effettuare Una foto Sono bravo Diventerò Uno youtuber Famoso Perfetto E questo L'abbiamo Fatto Quindi direi Che possiamo Tranquillamente Procedere Con 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 Parlare Con questo Bimbo Che si parla di Bimbo Brutto Vediamo cosa c'è da dirci Come va Daniel? Hi Max Si una plastica facciale A parte che lei non sa parlare Sarebbe onore Fesco di no Ma si sarebbe onore Dai Siamo onorati Innamorato Innamorato ragazzo Eh Con Si è difficile Non vedete Difficile Insegnare Taglia corto Ah Grazie Gentilissimo Una musa di riserva Grazie Grazie Facciamo anche le attrici porno In questo Gioco Bosto L'ha fatto? È un ritratto veloce O ci vuole ancora molto? Intanto intravediamo Gli alberi Le betulle Perfetto Diciamo che sei bravo A disegnare Diamo Diamo Questo merito A quest'uomo Questo ragazzo La situazione avrà Le conseguenze Che conseguenze Potrà avere Che su Facebook Mi sfonderanno In 2000 persone Ma va bene ragazzi Io direi che per questo video È tutto Vi direi di Salutarci Che vi invito a mettere Un bellissimo Mi piace a questo video Un bellissimo Mi piace anche a pagina Facebook E un saluto A tutti i gamers E un saluto E un saluto E un saluto